cari amici spettatori benvenuti siamo di nuovo qui dallo splendido studio astronave del gruppo editoriale distante di rosso vestito oggi tratteremo una tema a noi molto caro il ciclo n d e esperienze premorte facciamo molto scouting di questo scouting e ne siamo felicissimi ne beneficiano anche le emittenti nazionali perché ci fa molto piacere anzi li ringraziamo di dare ancora più voce ancora più megafono al grande lavoro che svolge costantemente tra le righe e antenna sud per raccontare in maniera seria senza mai banalizzarla la fenomenologia delle esperienze premorte e oggi avremo il piacere abbiamo il piacere di ospitare un professore di arte delle scuole medie che ha una scuola di vita bellissima oltre a essere un professore di scuola diamo il benvenuto al professor alessandro falchi benvenuto alessandro grazie salve alessandro alessandro devi sapere che io andavo bene in arte quindi adesso mi sta tornando un poco di paura perché non mi preparo da circa 16 anni anzi di più vent'anni vabbè alessandro la tua è una storia molto bella e prima di iniziare perché il racconto il tuo e tra l'altro è una casa bellissima io sono un visitatore di vite altrui e vedere una casa che ha questo aspetto brulicante di colori è sicuramente indice di una persona colorata colorita e sensibile mi preme dire che invito tutti i telespettatori a rispettare con grandissimo veramente amore le parole del nostro alessandro che nella vita non cerca visibilità il suo debutto televisivo che nella vita non vuole costruirsi una carriera raccontando quello che ha vissuto ma vuole semplicemente capire di più come diceva woody allen e ha scelto noi premiando il nostro lavoro e di questo lo ringrazio per raccontare la sua storia bellissima di amore e di montagna questa parola magica alessandro iniziamo con il racconto tra le righe antenna sud sono tutte per te e ti ascoltano intanto grazie per avermi ospitato e da dove partiamo siamo nel 2010 mi trovo in circostanze un po particolari con la salute e per una serie di motivazioni insomma devo affrontare delle difficoltà cardiocircolatorie e dopo un ricovero d'urgenza all'ospedale vengo chiaramente preso in carico dall'ospedale vengo portato all'interno del reparto cardiologia in condizioni non non buone perché comunque avevo in corso degli infarti e stavo in difficoltà che succede che nell'attesa di un intervento che sarebbe arrivato a breve ero in terapia intensiva ero monitorato intubato quant'altro erano presumo intorno alle 4 del mattino ho una difficoltà insomma come per difficoltà respiratorie anche fosse intubata e comincio a capire che sto andando di nuovo in uno stato di forte crisi fino a che mi rendo conto che a poca distanza da me il cortino per chiamare il mio corpo non risponde più il mio corpo non risponde agli stimoli comincio a sentirmi compresso da una difficoltà respiratoria da un dolore e faccio un po fatica però riuscirò a raccontarvela meglio che posso in pratica io vedo nero vedo buio mi ritrovo in uno stato di paura di terrore e più il corpo non rispondeva a nessun tipo di comando più io mi rendevo conto ero lucido che stavo arrivando a tremo in pratica rispetto all'infarto precedente prima dell'ospedale insomma ho avuto proprio la sensazione che stavo lasciando sta terra insomma che stavo purtroppo morendo insomma hai avuto questa forte fortissima situazione insomma di salute grave sta di fatto cerco di essere veloce in questa atmosfera di buio di freddo di difficoltà di paradisi in questo tipo questa sensazione come di pressione toracica tutte le vene tutto il corpo sembrava dovesse esplodere e io ero in totalmente impossibilitato in questo nero in questo buio nero grosso modo in questa direzione non so bene come come descriverla io non vedo niente ma io sento sento una specie di di voce premetto che a telepetenzia ero completamente da solo erano intorno alle 4 del mattino non c'era nessuno proprio era poi enorme come come stanzone gigantesco e sento questa voce lontana sento un brucio come di persone in qualche modo ma questa voce si fa più forte si fa forte decisa robusta mi rendo conto questa voce esce da qualcosa o da qualcuno che non era una persona ma era una cosa enorme infatti tu hai detto la montagna perché ho avuto la sensazione che fosse una montagna proprio gigantesca a rivolgersi a me lo so che sembra strano che voi possiate pensare che io alessandro alessandro non è non è strano e ti ringrazio perché hai fatto uno sforzo noi sappiamo dalla letteratura legata all'nde abbiamo avuto anche come ospite lo salutiamo e ringraziamo il dottor vaccarin che è stato il primo medico occuparsi in una tesi di laurea scientifica di nbe quindi è importante che i telespettatori capiscano che questa letteratura racconta dello sforzo immane che fanno queste persone come il nostro veramente buonissimo perché si vede dallo sguardo alessandro nel raccontare nel regalarci un frammento di vita che stava sfuggendo dalle loro mani prosegui pure prosegui pure ma ti serviva un po di fiato no grazie tendo tendo a cercare di raccogliere le informazioni che penso siano più importanti stati fatto che questa voce fortissima e decisa cristallina che non usciva da una bocca insomma da qualcosa di enorme che io non so descrivere come si sussurrando poi questa potenza con questa forza mi mi fece una sola domanda particolare mi disse alessandro come hai vissuto con che vita in pratica mi chiede come hai vissuto qual è la tua vita decisa io in questo buio totale dove ero in questa sensazione di sentirmi perso ormai affiora dal buio una sorta di colore giallo ambra dal quale visualizzo una specie di taccuino avete presente insomma i quadernini quelli che magari potrebbero essere per gli appunti una cosa si sembrava una specie di taccuino un quaderno e avete mai scarabocchiato sui bordi ecco la deformazione scarabocchiato sui bordi dei libri per fare le azioni dei cartoni questo si faceva una volta a scuola copiare io per copiare ho scarabocchiato tanto professore addio che ho avuto questo piacere e come 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 spogliando così velocemente un libro no girando io in un attimo non so quantificare il tempo io ho visto tutta la sequenza della mia vita dalla nascita fino a quel momento le cose più importanti le emozioni gli amici le feste i dolori le discusse tutto io sto passare tutto tutto velocemente e in quel momento dopo questa sequenza veloce sotto gli occhi e questa domanda con come una spada che mi è arrivata proprio da da questa montagna la risposta è arrivata in automatico da dentro non so come dire da un dentro che che stava dato non lo so comunque è uscita proprio come scusate il termine non bello come vomitare è uscita ho amato e questa cosa ha fatto sì che io vedessi su su questo lato del buio i miei genitori entrambi viventi nel 2010 e io mi dici conto io non posso morire adesso io non posso la non posso assolutamente io creerei un dolore enorme sarebbe devastante anche se io ero pronto andarmene cioè io ero pronto ho capito che ero pronto a partire però poi la la vista chiamiamola così sfocata di queste due piccole figure genitoriali hanno fatto che io avessi il dubbio insomma di lasciare in modo questo posto e così ripresi all'improvviso una sorta di respiro le forze riuscì a tirare questo cordino che stava terapia intensiva per chiamare l'aiuto e riuscì a tirarlo e perciò riuscì a muovere il braccio arrivò nel tempo non so quanto tempo dopo infermiera un medico insomma ad aiutarmi a darmi della presumo dell'adrenalina sotto la lingua insomma è l'ultimo tentativo che viene fatto per cercare di rianimare nei casi disperati di dare bisogno di dare forza è un tentativo medico ma lasciatemi dire io sono un freddo razionale che c'è qualcosa di razionale e di bellissimo alessandro in quello che tu hai raccontato i tuoi occhi lucidi e io ti ringrazio di non aver pianto perché a mio avviso la televisione deve proteggere i sentimenti delle persone raccontarli ma proteggerli a volte sono accusato c'è anche questo caro alessandro nella vita dagli haters di protagonismo nel non far vedere le persone che piangono e mi viene addirittura detto che bisogna vedere piangere perché sono emozioni io dico solo che il mio povero papà che non c'è più mi ha insegnato che il rispetto di una persona è tutelarne i sentimenti da parte di chi dei tuoi alunni di eventuali figli di eventuali genitori ancora in vita perché una persona può pentirsi di piangere in un determinato momento e la televisione non deve cannibalizzare quindi ti ringrazio perché avremmo staccato l'immagine ma c'è una cosa c'è una cosa che mi ha colpito non so se sei d'accordo ma questo è il nostro modo di fare alessandro è poi comunque se lo devi raccontare però mi domando è stato l'amore che tu hai pronunciato a questa montagna l'amore per i tuoi genitori non voler rilasciarli soli che ti ha dato una seconda possibilità amore chiama amore allora la risposta io non ce l'ho devo dire che sono seguito anche nel corso degli anni storie che ho letto che ho visto di altre persone per anni me la sono tenuta per me io non lo so se questo amore chiamiamo questa questa grande questo grande affiatamento che ci abbraccia tutti perché c'ho questa idea dopo questa esperienza ho cominciato a percepire il tutto noi gli altri come una specie di siamo tutti attaccati anche se stiamo distanti fisicamente l'aria dice non lo so io percepisco che noi facciamo parte di un tutto di qualcosa e ho tanti dubbi nella fede nella sono cristiano ma non pratico più anni per scelta mia ma questo non significa che non rispetto di chi lo sta facendo insomma di conseguenza probabilmente questo che noi chiamiamo amore di cui io non so dare assolutamente una definizione è qualcosa che esiste che è tangibile che agisce nei confronti degli altri tra di noi perciò presumo che questa forza in qualche modo mi abbia riportato dove sta devo dire che prima di questi episodi prima che io avessi l'infarto nel 2010 e poi ho avuto purtroppo episodi successivi ma per fortuna adesso sono monitorato e finché qualcuno lo vorrà sarò sarò qui prima di questi episodi ho avuto delle abdisaglie alle quali non ho dato molto peso perché sai quando uno sogna in qualche modo diceva beh ho sognato è un effetto della coscienza chiamiamola come ci pare invece nei sogni ero stato già da parte di qualcosa che ho sognato avvisato che sarebbe successo qualcosa di grave che dovevo prepararmi e allora ripensando poi a quello che è successo ho cominciato a collegare e poi anche dopo questo episodio sono successe delle cose per cui ho cominciato a sono sempre me stesso io dico sempre noi abbiamo un nome perché c'è stato dato di battesimo perciò io mi chiamo alessandro ma a volte ho la sensazione che noi potremmo avere qualunque nome qualunque identità ma il nostro passaggio qui in qualche modo ha uno scopo tant'è che che posso e non so se posso però stiamo per andare in pubblicità ci racconti quello che ci stavi dicendo adesso è la seconda parte perché siamo arrivati a questo gesto la chiamata che hai fatto la fermata del treno potremmo anche definirla d'emergenza pubblicità e ritorniamo con il professore di arte alessandro falchi e la sua nd e a fra poco cari amici siamo di nuovo qui io da questa splendida poltrona rossa e tra l'altro ho notato che a volte mi metto come ventana così e quindi non voglio non voglio diciamo farlo e devo cercare di calmarmi oh che bello abbiamo strappato un sorriso bellissimo al nostro alessandro falchi alessandro continua a raccontarci allora questa storia dopo l'episodio di infarto uscito dal pericolo quello che poteva accadere dopo ho avuto la riabilitazione insomma periodo lungo ma ero molto rabbioso perché stavo dicendo ma insomma la vita che mi ha messo davanti a queste problematiche che ci sto a fare qui perché devo stare qui qual è lo scopo qual è la motivazione insomma stavo abbastanza turbato lo usiamo il termine sintetico nei confronti della vita e tutto quanto perché comunque non è stato facile poi riprendersi ripartire rimettersi in gioco rimotivarsi non sempre è semplice e nei sogni mi è capitato successivamente di risognare questa voce per questa voce potente però l'ho sentita con tre voci questo in un sogno attenzione che sghignazzavano il mio sogno era lucido in quel momento sta di fatto che io chiesi e non vedevo niente di nuovo dico ma perché non mi avete fatto vedere io sapevo che in queste esperienze si si vedono tunnel si vedono passaggi si vedono io dicevo perché non ho visto niente perché che è successo chiaro che cavolo insomma per quale motivo non ho potuto vedere loro mi hanno detto una cosa che potrebbe far ridere però alessandro dice ma se noi facevamo vedere qualcosa a te che sei un amante dell'estetica delle cose belle della ridevano in senso monario dice tu non saresti tornato indietro se noi non potevamo farti vedere niente punto e io ancora più arrabbiato in questa specie di breve sogno ho detto capito ma io che ci sto a fare qua perché mi avete lasciato vivo che devo fare e loro queste voci disse guarda che il piano lo scopri a noi abbiamo bisogno di te dove stai lì dopo questo sogno di nuovo io pieno di dubbi come dire man mano però detto allora a quanto pare c'è un motivo per cui io debba restare i miei genitori il mio lavoro il rapporto con gli studenti le mie responsabilità la mia vita un po è cambiata che è il tempo a disposizione che abbiamo è preziosissimo per me il tempo non procrastino mai ma adesso ancora meno se posso faccio le cose subito appena è possibile se devo dire una cosa a qualcuno o essere contrario al lavoro su qualcosa insomma sono sempre stato uno combattivo però adesso ancora di più con tanta gentilezza con tanta diplomazia non lascio cadere niente non lascio nulla in sospeso non e cerco di comunicare quello quello che posso di buono che c'è nella vita aiutare persone e fare qualcosa agli altri dare fiducia io non ho la bandiera del a siamo tutti sotto la protezione celeste magari potessi dirlo con certezza però capito che possiamo veramente fare tanto mio non è buonismo spicciolo io quando mi incavolo incavolo insomma non è che questo aspetto non esiste per capello potremmo dire nel senso che sei così buono e hai un look io ti sto per raggiungere che è difficile immaginarti arrabbiato è difficile però lo capisco mi ha colpito quello che tu hai detto anche perché ernesto della serna più comunica più comunemente a livello di comunicazione ricordato come cechevara diceva che occorre essere duri senza mai perdere la dolcezza e quindi penso che questo possa essere un termine che indica come è cambiata la tua vita si può dire che c'è un alessandro pre nd e è un alessandro post nd e esiste una differenza è una grande differenza io mi sono trovato a fare una scelta che è quella di vuoi vivere o vuoi far finta di vivere per io non ho potuto fare una via di mezzo io ho dovuto prendere una decisione perciò tutto quello che vivo oggi è vissuto in pienamente anche l'ozio quando qualche possibilità per poterlo svolgere nel senso l'ozio riflessivo tutto è importante tutto va vissuto con determinazione con partecipazione con amore con tutto quello che sono i condimenti ecco se posso mi sono accorto che ho scelto di non essere un uomo cinico una una delle piaghe che trovo nella scuola se posso dire questi ragazzi hanno bisogno d'amore di essere ascoltati la piaga che sto rilevando è il cinismo cioè non si può 11 12 anni essere già ci avere un comportamento di maniera fredda di staccare per 2000 motivi familiari sociali allora io ho capito che non ho ceduto al cinismo è una lotta perché non è facile in qualche modo non è semplice non cederli no perché vediamo tutti i giorni le difficoltà ciò che ci prospetta la società i mezzi di comunicazione di massa diversi chiaramente questo contesto dove mi trovo in questo momento perciò il cinismo è un risultato di non so di cosa però esiste battuto ma io non posso pensare che giovani di 12 anni già hanno un concetto del quotidiano così freddo quasi come posso dire no schifato senza avere più un sogno un obiettivo un progetto sognante una cosa che li fa palpitare e se io posso fare che così un pezzettino così piccolo per se posso dire forse una cosa grande riaccenderli qualche modo riaccenderli io lo farò fino all'ultimo respiro se questo è il mio scopo poi se ce ne sono altri ben venga insomma beh io penso che sia bellissimo trovare uno scopo così forte e così umile perché tutti accontenti di essere un frammento di particella io penso che anche questa intervista perché la televisione è popolare perché la guardano tutti e oggi quasi si ci vergogna di dire di averlo visto in televisione prima era un vanto invece lo guardano la guardano tutti io penso che possa anche cambiare approccio in questo mondo a ciò che è irrazionale perché come dice il dottor vaccarin tutto è opinabile se non è replicabile ma ti faccio una domanda tu amavi i tuoi genitori è misurabile l'amore è misurabile con uno strumento concreto no non saprei se non è misurabile non vuol dire che non esista è tutto qui il dottor vaccarin sostiene questo e noi lo ringraziamo perché il suo è una il suo è un approccio assolutamente scientifico ed è assolutamente vero gialluca vialli che purtroppo non c'è più vi do anche una un aneddoto personale mio padre quando si ammalò di cancro purtroppo non ce l'ha fatta venne a conoscenza che anche vialli era malato e si dispiacque molto perché vialli era più giovane di lui questo fa capire la solidarietà del dolore tra due malati di cancro e ho visto un'intervista che mi ha commosso molto di gialluca vialli nella quale chiede a barcello lippi il suo storico allenatore che gli ha cambiato la carriera dopo uno storico allenamento iniziò a segnare rovesciata ad esempio cosa che non faceva da tempo disse mister mi devi promettere che non mi dimenticherai mai e questa è una frase che mi ha commosso molto e un'altra è stata alessandro ti vorrei coinvolgere su questa analisi sono molto preoccupato perché so di morire ma sono eccitato perché finalmente capirò cosa c'è lì dietro io penso che sia una frase bellissima meravigliosa intensa la brivido sinceramente è una bellissima testimonianza che questa sicuramente di qualcosa che ha un senso deve averlo un senso non so se posso al vice cito il mio lavoro perché d'altronde la cosa più vicina che ho quotidianamente lavoro il rapporto con questi ragazzi pensaceno quest'anno 255 su 9 classi perciò l'impegno e ci metto tutto me stesso affinché non siano accesi quando si fa storia antica romani o posso dire civiltà pre storiche stonage eccetera si parla di religione e mi venne in mente un paragone per far capire ragazzi questa religione che loro spesso non seguono la vedono come una cosa lontana perciò distaccata la popolazione delle formiche adesso direte questo è proprio matto eppure secondo me il microcosmo delle formiche che sono intelligenti organizzate capaci hanno una gerarchia sanno aiutarsi insomma è una mini società molto simile a noi umani però vive nel formicaio se io li guardo dall'alto e non li disturbo loro non mi vedono ma io esisto ok io esisto esiste il formicaio loro non mi vedono sono cieche in questo senso se io avvicino un bastoncino all'ingresso del formicaio e faccio un piccolo rumore o comunque sposto dei sassi si allarmano magari si organizzano se io addirittura distruggo l'ingresso si danno da fare per sistemare oppure mi attaccano ma non sanno e non vedono chi io sia perché nelle loro percezioni questo dei documentari le formiche hanno i sensi sviluppatissimi ma non sanno sono io ma io ci sono giusto allora ai ragazzi dico allora le religioni potremmo essere noi le formiche di qualcos'altro chiamalo dio chiamalo per adesso sembra un po la storia di pulliver però è un modo no è un piccolo ponte comunicativo con i ragazzi per far capire perché l'uomo ha fatto questi sforzi ha costruito e templi e no cose enormi le piramidi fatica immensa per costruire per fare per comunità sempre con qualcosa che sta di là come dici tu questo di là siamo curiosi di vederlo siamo siamo tutti orfani siamo tutti soli davanti a questa questo di là che forse alessandro e ci interroghiamo dalla notte dei tempi il culto dei morti non è un culto religioso attenzione è un culto di rispetto pagano chiunque nella storia ha seppellito e portato in dimenso rispetto lo abbiamo visto nel mondo animale io sto diventando vecchio mi commuovo quando vedo animali che vegliano su carcasse di altri animali morti io penso che sia un qualcosa di a religioso la privativa ma sia un qualcosa di profondamente umano restiamo umani e restiamo in contatto alessandro perché dobbiamo continuare in futuro la nostra chiacchierata una domanda secca siamo in conclusione dopo quello che hai avuto mi devi dire sì o no è hai paura della morte no ho paura del dolore fisico se la morte quell'ambito che ho percepito sono pronto a prendere il treno subito immediatamente alessandro io ti ringrazio per essere stato qui con noi hai degli studenti molto fortunati hai degli studenti molto fortunati che spero possano capire il tuo livello di empatia gentilezza e serietà grazie ad alessandro falchi grazie volevo ringraziare anche l'associazione nte che si sta dando tanto da fare con cui sono entrato in contatto recentemente sono stati tanto accoglienti sono molto attenti a tutte le testimonianze perciò volevo ringraziarli grazie siamo anche noi ringraziamo il presidente davide di alexandris grazie ad alessandro grazie alla regia ai tecnici agli assistenti di studio al mio editore mino distante a voi che rendete tutto questo possibile vi ringrazio ogni settimana alla prossima